Non tutti sanno che un Krampus ha il potere di teletrasportarsi. Sembra in cucina con i Krampus, con le pentole. E' un controller alla fine, come se fosse quasi un microfono a contatto. Un microfono anale. Un pianto dentro della parte esterna. Oh vabbè, a me piaceva il nostro. Bravo, mi ha trovato l'alimentazione in questa pezza, eh? Un po' da prendere l'alimentazione. 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 Non lo facciamo tiratissimo col fondo. Il ta della rotata, secondo me, avviene se sei un po' veloce. Se no l'intone non rende... Perché non è una roba da schiacciare. Più è una roba da viaggiare... Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS